Franchezza e schiettezza sono sinonimi, riguardano la sincerità, la sincerità dell'animo. La schiettezza manifesta quindi quello che l'uomo sente, il sentimento, quello che lo coinvolge nell'interiore. La parola franchezza deriva da franco, cioè da libero, una persona che è libera di parlare, una persona che è libera di esprimersi. Come è importante la franchezza? Quando uno, per esempio, non vuole più dire la verità, naturalmente con garbo, con educazione e con franchezza e carità, e che cosa gli rimane? Riflettiamo un secondo. Che cosa può rimanere? Se io rinuncio a dire il vero, rimango praticamente nella menzogna. O do luogo alla menzogna, o approvo la menzogna, o comunque non prendo posizione nello stile Ponzio Pilato. Ma quando noi siamo chiamati a, come dire, esprimere quello che è la ragione della nostra fede, quello in cui noi crediamo, quello che Gesù Cristo ci ha insegnato e che è riportato dai Santi Apostoli e dagli Evangelisti nei Vangeli, ecco che noi siamo interpellati in tutta coscienza a schierarci dalla parte della luce. Io non riesco proprio a capacitarmi di quanti non intendono schierarsi, nel senso che non vogliono prendere posizione. Io capisco che ci sono dei momenti, dei luoghi, c'è tempo per ogni cosa, c'è un tempo per parlare, un tempo per tacere, c'è un momento in cui vale la pena entrare in un discorso, affrontare un confronto, è benissimo. Ma è possibile, dico, che non ci si voglia mai schierare? Ci sono taluni che non vogliono mai schierarsi. Perché? Di fondo, qual è il vero motivo? Perché schierarsi implica avere dei problemi, in alcuni casi. Perché se io vado contro, per esempio, a un pensiero comune, a un sistema, a un qualcosa che è, come dire, ritenuto bene per la maggioranza e ho il coraggio di parlare, ribadisco con educazione, senza offendere, con franchezza e con amore, dicendo quello che alberga nel mio cuore, quello che io profondamente ritengo giusto e credo supportato dalla santa parola del Signore, ecco che a quel punto lì mi troverò in una minoranza, mi troverò magari a essere, come dire, deriso, mi troverò a essere contrastato. Ecco perché sto iniziando a comprendere perché taluni non parlano con franchezza, perché taluni non si schierano, perché non vogliono avere problemi. Ma noi siamo chiamati a questa, possiamo dire, testimonianza vigorosa e coraggiosa lì dove Dio ci guida con sapienza e con intelligenza, cercando sempre di trovare una conciliabilità, come dire, nel rapporto umano, cercare un rispetto che deve essere alla base di ogni nostro contatto e colloquio. Ma questo non prescinde, non preclude, come dire, l'esprimere quello che è nel nostro cuore, anche se questo può risultare impopolare, anche se questo può essere in contrasto, come dire, con la massa, con la maggioranza. Quindi, da parte nostra, prendiamo coraggio nel dire quello in cui noi crediamo, quello che è la ragione della nostra speranza. Perché nel nostro parlare è scritto, naturalmente daremo testimonianza della salvezza e daremo occasione di salvezza a chi ci ascolta. Perché noi non dobbiamo vergognarci di essere diversi da un sistema marcio, malato, tenebroso che sta andando verso la propria autodistruzione. Noi vogliamo essere, per qualcuno possiamo essere, ancora di speranza, indicandoli Cristo. Cristo che è speranza di gloria che vive in noi. Gesù aveva tantissimi contrasti, eppure testimoniò coraggiosamente la parola del Padre. Gli apostoli stessi, vediamo i diaconi, come Stefano, non si tirarono indietro. Vediamo gli apostoli, persino chiamati davanti al sinedrio ebraico, testimoniarono Gesù è il Cristo, Gesù è il Messia. Anzi, vi diremo di più, noi non possiamo tacere, perché non possiamo... Giudicate voi, no? Se è giusto ubbidire agli uomini anziché a Dio. E aggiunse una delle più belle confessioni di fede della Bibbia intera. Non vi è sotto il cielo altro nome che sia stato dato agli uomini mediante il quale poter essere salvati. All'infuori di Cristo Gesù. Che Dio veramente ci aiuti ad avere questa franchezza, con amore, compassione, comprensione e la sapienza di parlare al momento opportuno, nella situazione giusta, di non tirarci indietro quando Dio ci darà l'occasione, quando Dio ci aprirà una porta per poter annunziare la verità di Gesù. All'infuori di Cristo Gesù